Allora cos'è che adesso l'ha fatto cambiare? Sono i suoi gusti che sono cambiati? Perché non gli piace più a Marte il tuo minestrone? Mamma, io esco. Torno presto. Valentina! Valentina, scusa, ti posso chiedere una cosa? Ma tu come mi vedi? Cioè, come tua madre è stata fuori? Che domanda è? Ciao, mamma. Ciao. 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 Valentina. Paolo. Allora, tu mi porti. Sei pronta tutto? No, non la sushi perché ho una moda da imbecilli, eh. Perfetto, volevo fare quello stasera. Ti voglio. Michelle Pfeiffer faceva la cassiera in un supermercato, Harrison Ford e Falegname, Harvey Keaton lo sportellista in banca, Tarantino affittava un video e Tom Cruise stava in un seminario per la farsi prete. Ma questa non la sapevo. Vuoi dirmi che voi non c'ho le carte per lavorare in tv? Che poi mica sono sprovveduta, no? No, no, sono sprovveduta. Io non voglio adorare una stagione bassa come te. Io so parlare inglese e anche un po' di francese. Do you want a nomi? Volevo me connect? Faccio lanciare a tre anni, sono pochi? No, che non sono pochi. Lo sai perché tutti vogliono fare televisione? No, perché? Perché dentro ci trovi la gente comune. Per avere successo devi solo saper parlare, saperti muovere e saper sorridere dalla parte giusta. Non è come al cinema che devi saper recitare. A te ti vedo pure il cinema. Infatti sì, io voglio essere la ragazza della porta accanto che arriva dappertutto. A me quello che mi manca è soltanto qualcuno che mi aiuta a incontrare le persone giuste. E adesso qua lo faccio io. Che pensi?